A Cerveteri è stato presentato VeroItaly.it, un portale di e-commerce dedicato alla vendita dei prodotti made in Italy e aperto ai mercati internazionali. Si tratta di una sperimentazione che vede nella cittadina laziale il suo hub di lancio e sviluppo. Sarà uno strumento attraverso il quale le piccole e medie imprese potranno raggiungere un pubblico vasto e promuovere prodotti che vanno dall'abbigliamento alle calzature, senza dimenticare l'immancabile e fondamentale settore enogastronomico. Il promotore dell'iniziativa è Luciano Ridolfi, assessore alle attività produttive e allo sviluppo economico che ha dichiarato. Questo progetto coinvolgerà l'agricoltura, l'artigianato e quelle aziende che vorranno farsi conoscere e costruire qualcosa di importante che possa muovere l'economia locale e fare da volano a nuovi e innovativi investimenti. L'unico requisito per aderire è che l'intera filiera del prodotto sia italiana.